Spadafora, un incapazzo incompetente che aveva detto che non si ricomincia e poi ha permesso anche le partite Atalanta-Valenzia. Anche ai singoli atleti, nel caso specifico ai calciatori delle squadre che però devono allenarsi come hanno iniziato a fare o stanno iniziando a fare singolarmente non in squadra e poi dal 18 maggio dopo che sarà approvato il protocollo della FIGC dal comitato tecnico-scientifico sarà possibile riprendere gli allenamenti di tutta la squadra. Ecco ma sarà approvato Ministro? Prima dice di no, poi dice di sì, Spadafora, un incapazzo incompetente. Il protocollo era comunque un buon lavoro sul quale però i componenti del comitato tecnico-scientifico avevano una serie di complessità, una serie di chiarimenti. Che anche sulle domande sulla riduzione parlamentare non ha risposto, come non ha risposto anche sul calcio adesso risponde a strapparla, disconnette. Ma diamogli a casa, votiamo no e andiamo a calcare questi incapaci incompetenti. Allora, signor Ministro, ci saranno di sicuro alcune centinaia e migliaia di italiani che sono qui a guardarci questa sera e si aspettano da lei una parola sulla riapertura del campionato, sulla possibile riapertura del campionato. Accadrà, potrebbe accadere a giugno, a metà giugno, a fine giugno, insomma, cosa potrebbe accadere per il campionato di Serie A e di Serie B? Guardi, io me lo auguro vivamente che il campionato riprenda e se non fosse così sarebbe surreale per un Ministro dello Sport, anche rispetto a tutto quello che leggo in questi giorni. Ovviamente deve avvenire in sicurezza. Prima strapparla, non riprende, mi occupo delle piccine, delle altre... Padafuola strapparla come quando gli si è chiesto sulla riduzione dei parlamentari, una vergogna. ...elementi che ci consentono di dire se a metà giugno sarà possibile riprendere il campionato. Io ovviamente me lo auguro e lavoreremo perché questa venga. Dipenderà molto anche da queste due settimane, vedremo il primo impatto che questa riapertura avrà avuto sul paese. Se la curva ai contagi continuerà... Quando c'era Spadafuola, quando in Parlamento potevano benissimo predisporre la quarantena e non c'era tutto il dramma che c'è stato, poi si facevano come in Grecia. Spadafuola come Di Maio, Di Stefano, Di Matteo. Questi incapaci, ma andiamoli a casa. E si aspetta che sia lei a decidere. Votiamo no, allora non si è parlamentare così andrà a casa, cade il governo ma andiamo via a questi incapaci. Lo posso anche capire perché è un'assunzione di responsabilità importante che noi come governo, ecco mi auguro che non dovremo prendere, ma se le condizioni non consentiranno di riprendere sarà ovviamente il governo a decidere che si fermano tutte le competizioni sportive, tra cui anche il calcio, ma soprattutto sarà il governo anche a creare le condizioni, a fare una norma che consenta di limitare il più possibile... E perché non ha impedito Atalanta-Valessia? Cioè a San Siro, un delirio che avrà portato un casino di infettati, con altre partite anche prima, Inter-Cagliari e tutte le altre. Una vergogna, con anche Lukaku che ha detto che tutti avevano la febbre, una vergogna. Se si dovesse riprendere, si riprenderà ovviamente a Porto e Chiuso immagino. Quello è fuori discussione. Eh beh sì, certo, certo. Senta, ovviamente lo sport italiano, lo sport nazionale, il calcio è una sorta di religione laica del nostro paese, ma per fortuna lo sport non è soltanto il calcio, è anche sport di base, sono anche le palestre, anche l'attività genica, insomma c'è un popolo intero che aspetta una, come dire, un qualche elemento di chiarezza. Quando è che potremo riprendere a correre, andare in palestra, le attività che insomma facevamo prima? Attività motoria e sportiva all'aperto e ripresa, ma sono contento anche di confermarle che questo lavoro per me è importantissimo per la ripresa delle palestre, dei centri sportivi in generale, i circoli tennis, centri danza e altro, è a buon punto. E poi aveva dichiarato Spadafora che si occupava delle palestre, piuttosto che il calcio, non poteva aspettare. Traparla, è incompetente, come anche quando gli si è chiesto sulle direzioni parlamentari non ha risposto. Il piano della P2 di Dice Ognelli, la dittatura contro i cittadini. Ma andiamoli a casa. Nel prossimo DPCM, quello che scriveremo e che andrà in vigore dal 18 maggio in poi, ecco in quell'asso di tempo che va dal 18 maggio alla fine del mese di maggio, ci sia la data precisa per poter riprendere anche questo tipo di attività. Andiamoli a casa, votiamo no alle distrutture parlamentari, come era se li rimettere? Spadafora, questo Spadafora, Ministro, ma come Di Maio mi dì? Poi hanno raddoppiato il Ministro dell'Università, quella incapace incompetente, di mettere metà lezioni in classe, metà sul compiù, che non ci sono le distrutture. Ma sono degli incapaci, andiamoli a casa, Spadafora, vai a casa, incapaci, andiamoli a casa.